I due motuaglianti del blu voltige pilotati da Fabio Biannacone e da Ivan Prizon. Oggi si presentano a voi in formazione congiunta d'onore per esprimere anche a nome di tutta l'aviazione civile italiana il cordoglio e vicinanza alle vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia nei giorni scorsi. Il mondo dell'aviazione civile italiana anche con i propri aerosuccorritori è particolarmente vicino a chi in questo momento sta soffrendo per aver perso i propri cari e è rimasto senza una casa. E vedete nel cielo disegnato dal Wiflet Team e dal blu voltige la J di Iesolo per dire a tutta l'Italia che noi ci siamo e soffriamo con chi ha perso i propri cari e la propria casa. Sottolineamolo con un grande applauso e sventoliamo il banderino. Ora la formazione si separa sulla musica del blu voltige e parola al generale dal forno che commenterà l'esibizione del blu voltige. Noi ci risentiamo fra poco per ammirare il Wiflet Team. Via al blu voltige! Ed ecco che comincia la presentazione di blu voltige che gli amici con un po' di saccasmo a riunione del blu voltige e parola al generale. Grazie! 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 Grazie!